La lambagliante ha deciso di non funzionare più, dunque lo sostituisco con una bella lampadina H1 della Bosch comparata al primo supermercato trovato lungo la strada. L'operazione è molto semplice, basta aprire il cofano, raggiungere la levetta di sgancio del fanale, abbassarla e far scivolare il fanale. Poi dietro c'è un coperchio che si toglie semplicemente alzando una clip. Fatto ciò si accede alla lampadina H1 fulminata, probabilmente, alzando un fermetto di ferro e la lampadina viene via in un battibaleno sostituita con quella nuova. Si richiude il tutto facendo esattamente le operazioni inverse e se tutto è andato liscio finalmente avremo luce. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse invitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie per la visione. 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 Grazie per la visione.